A620 contro B650, il chipset più economico di AMD è sicuramente il più gettonato che è appunto la B650 Perché è il più gettonato? Perché è quello che ha la nomina di avere Il miglior rapporto qualità-prezzo, ma non oggi, non questa generazione, diciamo da sempre Quali sono però le differenze a livello teorico tra le due? Più che altro quali sono le limitazioni sull'A620 e anche in campo pratico, no? Prendendo effettivamente una 620 che è quello che faremo oggi e una B650 Gaming XAX Che c'è stato è diverso in termini dei risultati, va uguale, peggio, meglio per esempio in gaming, lato produttività Insomma, maggiori dettagli a riguardo dopo la sigla Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con la introduzione Oggi andiamo a parlare di schede matri socket M5, quindi parliamo di schede matri per AMD Ryzen 7000 e 8000 7000 quindi 7600, 7, 8, 9 eccetera e poi 8600G, 8700G Almeno per oggi questi sono i processori che ci stanno Nello specifico andiamo ad utilizzare una Biostar A620M PE Pro Conte una B650 Gaming XAX per fare dei test effettivi con un 7800X3D e una 7800XT Per capire se effettivamente poi, lato pratico, quali sono le differenze Se ci stanno davvero limitazioni in termini di performance, eccetera, eccetera, eccetera Prima di attaccare e farvi dei test, ovviamente facciamo anche un'analisi teorica delle limitazioni dell'A620 Ma ancora prima vi invito a iscrivervi al canale ragazzi Bottoncio Nero se è gratuito lo trovate qui sotto Lasciatemi un like, un commentino, fatemi sapere i contenuti così desautili E giù in descrizione canali delle offerte, chat di gruppo e insomma solita solfa Qua sotto dategli sempre un'occhiata Ma detto questo, parliamo un attimo delle differenze teoriche che ci stanno tra una A620 e una B650 Voi ho detto, la B650 è sicuramente il target fondamentale Uno quando pensa a comprare una scheda madre e magari non ha un budget gigante Ma spesso anche la X670 ha poco senso, soprattutto se devi fare un PC per giocare Lato produttività anche potrebbe non aver senso perché l'unico vantaggio che si ha sulle X670 Per esempio è avere tantissime linee Quindi ecco, più port USB, più porte Pitch Express, eccetera, eccetera, eccetera Però in termini di vantaggi grandi non ce ne stanno Anche lato overclock, nella maggior parte dei casi ci sono B650 Comunque hanno ottime sezioni di alimentazione Per quanto riguarda invece le A620 costano poco nella maggior parte dei casi Si trovano che è massimo 130 euro, 140 Oggi ne esaminiamo una, la Biostar, che vi costa più o meno 120 euro Ed è anche tanto, però ha una buona fase di alimentazione Poi lo vediamo dopo nel dettaglio Sta di fatto che la A620 comunque si porta presso qualche limitazione Tra virgolette importante rispetto al chipset, quello più gettonato Che appunto è il B650, che è molto vicino in termini di costo E questo credo che sia uno dei paletti che blocca, tra virgolette, un po' le vendite Delle A620 Per quanto riguarda le linee, su un A620 abbiamo 32 linee Mentre per esempio su una B650 ne abbiamo 36 Ma la limitazione più importante è che queste linee sono tutte 4.0 sull'A620 Quindi noi abbiamo le nuove 5.0 Uno può dire, vabbè, amen, le schede video 5.0 oggi non ce stanno Gli SSD 5.0 costano tantissimo e non ti danno vantaggi all'atto pratico sui test ad oggi Verissimo Sta di fatto che se devo spendere un pochino di più E visto che la scheda madre la utilizzo magari per più anni Visto che il socket AM5 dovrebbe durare almeno 3-4 anni Allora mi prendo una MOBO con più upgrade possibili anche lato futuro Questa è una prima limitazione Un'altra limitazione importante è che non è possibile fare overclock sul processore Quindi nel BIOS per esempio di questa BIOS manca tutta la sezione del PBO Non potete toccare i PBO, non potete toccare la frequenza del processore Ci sta il moltiplicatore che potete cambiare, tipo le tensioni eccetera Però ecco, è overclock vero e proprio, non potete farlo Non sulle RAM, l'XMP è possibile attivarle In realtà anche i timing, cioè pieno accesso Potete fare un po' quello che vi pare sulle RAM Nello specifico questa BIOS reagisce fino a 6000 MHz di RAM di DR5 Poi dipende ovviamente, magari ci mettete una 64 e reagge comunque Però tanto su AMD andava oltre i 6000 MHz, non è che ha tanto senso Altra piccola limitazione, non ha USB 3.2 Gen 2 Quindi le USB da 20 Mbps, abbiamo quelle da 10, quindi Gen 1 Ma abbiamo in aggiunta più USB, quelle un po' più scherzette Le 3.0, le 2.0 eccetera 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 Queste sono in linea generale le differenze Voi ho detto, alla fine è meno limitata rispetto al passato Però comunque qualche limitazione ci sta Forse quella più impattante potrebbe essere quella del 5.0 Per la futura abilità della scheda madre L'ho detto bene, non lo so, è la parola uscita un po' stramba Per quanto riguarda invece la MOBO di BIOS Che andiamo per utilizzare per fare i test La A620 MP e Pro Vi devo dire, per essere una A620 costicchia Tipo 120€ che non sono pochi È un chipset che pagherai massimo 100-110€ una MOBO simile Però ecco, le fasi di alimentazione Che sono uno dei punti deboli della A620 Perché di solito, ecco, costando poco Lato VRM sono proprio ammazzate a bestia E anzi, alcune schede madri hanno pure il blocco con processore fino a 65W In questo caso io il 7800X3D ce l'ho piazzato Che ha un TDP di 120W Funziona, quindi questa MOBO non ha nessun blocco Poi magari, ecco, ti cappa un pochino in base alla gestione C'è da dire che appunto è 7 più 2 più 1 fasi Le linee alimentazione oltretutto da 55A E anche dissipati che potrebbe essere una cosa non da poco Se vedete tutte le A620 nella maggior parte dei casi non c'hanno proprio il dissipatore È possibile installare 4 banchi di RAM di DR5 a 6000MHz massimo come ho detto prima E altre cosine carucce e niente Esteticamente è molto semplice ragazzi Forse la cosa utile da segnalare è che ha un bottoncino del BIOS Flashback Se volete fare aggiornamento nel futuro È una MOBO normalissima, semplice Magari da utilizzare su un PC da ufficio Magari con un 7500F, 7600, 7700 lisci Quindi quelli con TDP appunto bloccato a 65W Però ho detto, come scheda madre in realtà Regge anche quelli con TDP più elevato Io nello specifico ci ho messo il 7800X3D La scheda madre che andrà a sfidare Questa è una B650 Gaming X AX di Gigabyte Una delle più gettonate tra le B650 Prezzo tra i 180 e i 200€ 8 più 2 più una fase di alimentazione a 60A E in generale una dissipazione proprio ad occhio nudo Se vede che è fatta meglio Anche per quanto riguarda lo shield posteriore del USB Insomma, è realizzata ad hoc È una scheda madre che comunque costa quasi il doppio Quindi effettivamente ci sta C'è da dire che come B650 Se proprio volevamo prendere una Che poteva rompere un po' le scatoline Anche in termini di prezzo Alla S20 che andiamo a testare Ci sta la B650 HDV di ASRock Che ve costa 155€ E sì, c'ha magari limitazioni lato RAM Che c'ha solo due banchi Però c'avete il chipset B650 con i vantaggi Che se porta appresso Parlando di test effettivi Che vantaggi ve dà sta scheda madre? Allora, andiamo a fare dei test in gaming A dettagli bassi Con appunto il 7800 X3D E la 7800 XT che vi ho citato prima In combo per vedere Se ha tantissimi FPS Insomma, abbiamo qualche limite Perché sappiamo Il processore comunque si notano grandi differenze Nel momento in cui è sotto botta sul gaming Quindi magari il lato CPU bound E appunto cerchiamo Mettendo dei giochi che fanno tanti FPS Già di base Tipo Formula 1 2022 Fortnite Mv3 E poi ci piazzo anche un Cyberpunk Perché il lato Cyberpunk Da virgoletta Ci abbiamo anche Una parte di calcolo importante Lato gioco appunto Risultati alla mano I giochi vanno pressoché uguali Tutti e quattro testati appunto A dettagli bassi L'unico che ha un piccolo vantaggio Sull'A620 è Mv3 Inspiegabile Infatti con un 2% in più Mentre Fortnite fa un 5% in meno Ma è anche uno dei giochi Che spinge tanto In termini di FPS E il 7800 X3D Lo fa andare proprio a bestia Questo lato gaming E un test abbastanza veloci Perché alla fin fine C'è poco da dire Volevo proprio vedere effettivamente Se c'erano differenze E ragazzi Non ce ne stanno più di tanto Facendo invece dei test sintetici Come CPU Mark E Cinebench R24 Corona Blender Eccetera Che risultati abbiamo? Ecco Tutti in quelle volte Che andiamo ad utilizzare il multicore Abbiamo delle differenze tangibili Che girano tra il 10% 15% 7-8 Dipende dai vari test Vi passano vari grafici Davanti alla mia faccia Però effettivamente Quando si fa sfruttare tutto il processore Tende un po' a essere conservativa La scheda madre Quindi ti ha delle frequenze Un po' più basse E anche i consumi Un po' più bassi Quindi Capparlo Un pelo Vediamo però in Cinebench R24 Che in single core Appunto facciamo lo stesso punteggio Anzi Anche qui Un po' come è successo Con MV3 Sembra che la 620 Spinga anche un pelo di più In frequenza Poi lì Dipende anche da come è impostato Il BIOS Vi dico Tutte e due BIOS L'ho lasciati a stock Tutte e due aggiornate All'ultima versione Con l'ultima Gisa 1.1.0.1 Se non mi sbaglio Proprio l'ultimo BIOS Proprio per non avere Magari ecco Disallineamenti A quel punto di vista Ed effettivamente Questi sono I risultati Per quanto riguarda Compressione e decompressione In compressione ragazzi Ho usato 7-Zip Per fare tutte e due test Non ho trovato differenze Decompressione invece Abbiamo un vantaggio Sulla B650 Ma in generale Come detto prima La B650 C'ha piccoli vantaggi Dove si sfrutta Un po' di più Il processore Perché Perché taglia meno Lato consumi Lato frequenze Eccetera Ho fatto anche Dei test sintetici Sempre in combo Con la scheda video E un po' per completare Il discorso Fatto prima Nel gaming Ho usato Timespy Ed effettivamente Anche qui abbiamo Circa un 7% Di vantaggio Sul score Di Timespy Lato processore Ovviamente Per quanto riguarda Invece Lato produttività E video editing Più che altro Ho voluto fare un test Con Puget Bench E in combo Con Da Vinci Per vedere un po' Se anche qui Trovavo differenze E niente C'è sempre Questo 7% di differenza A vantaggio Della B650 Puget Bench In realtà Fa un sacco di cose Sempre basate su Da Vinci Quindi ci stanno Vari calcoli Ma in generale In overall appunto È un 7% più lento Sulla 620 Rispetto alla B650 Questi tutti i test sintetici Vi ho parlato anche Del gaming Ho fatto qualche test Sul Timespy Insomma C'avete il quadro Effettivamente Cambia Sì cambia ragazzi Soprattutto se non potete Poi toccare più di tanto Al processore Perché non potete regolare Il PBO Non potete toccare Le frequenze Non potete fare nulla Quindi effettivamente Vi tenete il 7800 X3D Così come lo fa a lavorare L'A620 La B650 A parte che se può toccare Un po' De impostazioni Io ho lasciato tutto a stock Perché Per andare un po' A di cui parare Quello che succede Sulla 620 Ed effettivamente Possiamo dire Che i risultati Sono comunque Abbastanza simili In gaming Non vi cambia nulla In produttività In realtà C'è potete avere Un po' Di rallentamento Per via del cap Che la scheda amate Può andare a fare Sul processore Per non farlo Consumare troppo A tenere le frequenze Un po' basse Eccetera 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 Che direi ragazzi Spero che questo contenuto Vi è stato utile Per capire un po' Le differenze Tra questi due chipset Visto che l'A620 È molto più economico Uno dice Oh Me ci butto E vi devo dire In realtà invece Potete buttare Se dovete prendere Un 7500f 7600 In generale Per un pc da gaming Se pagate 100 euro La mobile Ecco Già questa A620 I biostar 120 euro Forse sono un po' Tantini Perché vi ho detto Ci sta l'Asterock La B750M HDV A 150 euro Quindi però Fino a 100 euro Per proprio budget Risicate risicate Potrebbe anche avere Un pochino di senso Detto questo Niente Un saluto al vostro Davide Dal piccolo Baby Yodo Con la testa fluttuante Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Like, commentino E appunto Ci vediamo al prossimo video Ciao